San Gregorio Pasquale Farfaglia ci riprova perché ha deciso di riscendere in campo a San Gregorio? Tanto diciamo che questa è la quinta volta che ci riprovo. Dopo la mia prima amministrazione dove c'è stata un'ampia discussione sul mio nominativo diciamo che in queste ultime elezioni viene spontanea e naturale la mia ricandidatura perché un gruppo di amici entri ed associazioni assieme a loro decidiamo di fare questo percorso. E quindi uniti assieme noi cercheremo di vincere queste elezioni. Perché i cittadini e gli elettori di San Gregorio dovrebbero riporre fiducia a lei e nella sua squadra? Perché noi garantiamo ampia sicurezza e fiducia nei cittadini anche forte della mia esperienza amministrativa negli enti subregionali dove ho amministrato con ottimi risultati Afor, azienda Calabria Verde e due anni passate all'assessorato regionale al lavoro. Quindi questo fornisce ampie garanzie di una buona e ottima amministrazione. E inoltre vorrei dire che vorrei che ci votassero i cittadini di San Gregorio di Pone perché nella nostra lista vi è forte la presenza di donne e saranno presenti almeno quattro donne nel prossimo Consiglio Comunale. Le priorità da affrontare anche in virtù della crisi di coronavirus non solo dal punto di vista sanitario ma economico. Su cosa punta Pasquale Farfaglia? Guarda, anche se non è nostra competenza, noi batteremo i pugni alla regione Calabria perché quest'anno la crisi ha portato molti licenziamenti, molte persone sono rimaste a casa, in particolar modo nel campo stagionale. Quindi noi batteremo i pugni alla regione perché dia dei sussidi o dei supporti a queste persone e possono collaborare con il Comune. Altre priorità da affrontare? Sono tutti i lavori che ho lasciato nel 2005 nella mia seconda amministrazione che tutt'oggi sono fermi lì dai progetti esecutivi e quindi sono pronti a riprendere il loro cammino. Quindi cantieri che dovranno ripartire? Esattamente, sono due grandi opere, grosse opere di cui il Comune ha necessità e che ritengo in breve tempo diventeranno cantierabili e potranno iniziare i lavori.